Signori, bentornati ragazzi, bentornati camerata, bentornati comunisti, bentornati in questo nuovissimo video, pagellario del giorno dopo, sentenze del giorno dopo, oggi me ne do qualcuna, mi aiuterete anche voi nei commenti, vi ringrazio per i commenti nel video di ieri da cui poi ho preso spunto anche come al solito i commenti che leggo su Instagram e tutti i bei messaggi che mi scrivete come sempre. Allora iniziamo con le pagelle oggi fatte su questo foglietto di carta come fosse un taccuino, ormai io sono un osservatore calcistico, ok? Va bene, bene. Allora iniziamo, Cragno, 6 e mezzo ed è quello su cui mi soffermerò di più, ve lo dico già. Allora Cragno io pensavo che dopo aver fatto quella sentenza irrevocabile non fosse più necessario dire altre cose, enunciarmi oltre. Allora 6 e mezzo di Cragno già qua saranno tutti indignati ma come 6 e mezzo è un voto bassissimo, io la partita di Cragno di ieri l'ho trovata una buona prestazione nella norma, nella norma. Una prestazione che un portiere deve fare rispetto al solito, ha fatto qualche uscita più decente del solito, ha sbagliato diversi rinvii, che questo non viene mai fatto notare, ma Cragno sbaglia una marea di rinvii. E lo ripeto ancora l'ennesima volta se non fosse chiaro a chi costantemente si vuole scopare Cragno perché, cioè, questa è una veramente, una massoneria segreta che, ma no, non tanto segreta, purtroppo troppo pubblica, che costantemente mi innervosisce e costantemente vuole, non capisco il perché, osannare Cragno. Cioè, scusate se sentite vento, ragazzi oggi c'è un vento clamoroso, non posso fare nulla se non stare in casa e far... Madonna, c'è un vento assurdo, non vogliono farmi registrare questo video, ecco, guardate la massoneria cragnana che mi lancia il vento, vuole farmi uscire di casa e ammazzarmi, ok? Allora, Cragno, cioè, Cragno ieri ha fatto una buona partita, ma normale, cioè, non mi pare che abbia fatto dei miracoli. Mi avete scritto quello su Zapata, in diversi mi avete risposto la storia dicendomi, è la parata su Zapata. Sì, ma poi la palla è stata respinta sulla destra di Palomino che ha segnato, quindi è un miracolo completamente effimero, è completamente inutile. Inutile, parliamoci chiaro, parliamoci chiaro. Mi ha fatto solo godere che avevo Zapata tenuto in panchina e almeno non ha segnato, va bene, ma, cioè, voglio dire, di cosa stiamo parlando a livello... Boh, continuo a non capire, continuo a non capire. E poi perché ieri si è fatto subito il post Cragno, l'uomo Cragno? Ma perché? Ma perché bisogna usannare? Cioè, allora, io, dovesse essere venuto d'estate, capisco che forse, probabilmente, Cragno viene usannato dagli stessi social media del Cagliari, perché poi deve essere ceduto in estate, quindi bisogna far aumentare il valore, anche questa cosa della fascia, cioè... Vabbè, io non mi esprimo su queste cose perché, sinceramente, le trovo... sono anche un po' raccapriccianti. Cragno, tra l'altro, se la doveva togliere quando è entrato Cepiteli per dargliela, questo off topic. Vabbè, comunque, su Cragno, ripeto, 6 e mezzo perché ha fatto una buona partita, ed è un 6 e mezzo, non è un 5, però è un 6 e mezzo. Io non capisco questa cosa, il post di Cragno e tutti sotto, ah, non capisco perché l'ho criticato, ma cosa non capisco perché l'ho criticato? È che è stato uno dei peggiori del giro d'andata. Parliamoci chiaro, Cragno ci ha anche costato a qualche punto nel giro d'andata, ha fatto un giro d'andata disastroso. Poi, se vogliamo continuare a dire, ah, ma non è colpa sua, continuiamo a dirlo, però... Dei problemi enormi si vedevano nel giro d'andata, si vedono già da un po', in realtà, problemi e incompatibilità di Cragno su certi aspetti che servirebbero di più al Cagliari, allo stato attuale delle cose. L'abbiamo visto, insomma, quando è subentrato Vicario l'anno scorso e guarda caso il Cagliari è tornato a vincere proprio in concomitanza. Guarda caso Boris nelle partite quando è stato chiamato in causa come ha giocato. Guarda caso Robin Olsen, io non so, dico sempre un guarda caso, saranno tutte coincidenze. Va bene, continuiamo, andiamo avanti. Scusate, mi sono dilungato anche troppo, c'è il video della sentenza irrevocabile, andatevelo a vedere, per favore, non voglio più esprimermi. Goldeniga, 6 a 7, Lovato 7 più, Obert 7 e mezzo. Allora, chiaramente il più bravo è stato Lovato, cioè non è che, però, voi mi direte perché ha messo di più a Obert? Semplicemente perché è un ragazzo giovanissimo che ha le prime prestazioni da titolare, sta facendo dei numeri importantissimi, sicurezza, spessore. E' veramente un giocatore che mi fomenta, mi fomenta terribilmente, Obert, mi fomenta terribilmente. Tra lui e Carboni lì io non andrei più a toccare, sento Izzo, ho sentito l'altro giorno Wallace. Ma che Wallace? Ma teniamo qua, ragazzi, questa difesa, Obert e Carboni per il centro-sinistra, ma non scherziamo. Lovato è chiaramente un giocatore importantissimo, importantissimo. Io mi viene da dire che non capisco il perché l'Atalanta, con quei difensori a tratti imbarazzanti, perché l'errore di Jim City sul quale poi perde il pallone è un errore gravissimo che poi porta all'espulsione di Musso. Lovato lo danno. Meglio per noi, chiaramente, meglio per noi. Purtroppo è solo in prestito, purtroppo non c'è riscato. Goldeniga, 6 a 7, ha fatto una buona partita. Mi ha fatto morire quando ha fatto quel tiraccio all'85esimo, mi pare, su assist di Marin. Vabbè, ci stava. Ignorantissimo. Si è sacrificato molto. Ma diamogli anche un 7. Un 7 a Goldeniga. Bravo, bravo Edo, bravo. Ieri mi è piaciuto. Mi piace leggermente meno degli altri due perché mi sembra che gli altri... Beh, Obert l'ho voluto premiare un po' per il fatto che le prime apparizioni. Lovato, partita stratosferica. Goldeniga gli ho messo leggermente meno perché secondo me non è sul livello di Lovato. Comunque, Bellanova, 8. Non parlo neanche più. Anche qua dovrei fare una sentenza irrevocabile. Bellanova, non voglio più parlarne. Io ve l'ho allattato dalle prime volte che era in campo. Vi ho detto, Bellanova, bisogna crederci. No, in realtà la prima volta che aveva fatto una mezza cappella di pensione mi ero imbestialito. Poi, in realtà, da quando è iniziato ad essere titolare, quando si è rotto Nandes, quando si è rotto quello e quant'altro, l'ho sempre fomentato. Ve l'ho sempre fomentato. Ho creato le bimbe di Raul. Va bene? Ho creato le bimbe di Raul. E adesso state tutti salendo sul carro del vincitore. Sbagliate. Poi, De Iola, 6 e mezzo. A tratti mi sembrava non ci fosse in campo. De Iola, veramente un ragazzo un po' strano, però ci mette sempre tutto quel che c'ha. È un ragazzo che ha molti limiti. Cioè, parliamoci chiaro. Io non voglio andare ad enfatizzare ragazzi che, a mio avviso, possono stare solo in certe condizioni, perché adesso è un Cagliari straproletario. Però De Iola è veramente scarsino. È veramente scarsino. Poi, voglio dire, sta giocando comunque bene. Cioè, io non voglio assolutamente togliere nulla. E c'è chi continua, quando si perde, a incazzarsi con De Iola. Ma come? Ma perché con il povero De Iola? De Iola sta facendo il possibile, adeguatamente i propri mezzi tecnici e quant'altro. Ieri non l'ho visto così tanto, a differenza di un Grassi, a cui ho dato 7 più, che per me è stato incredibile. E qua faccio un'altra riflessione, che poi faremo un altro video in settimana. Grassi riscatto a 1.800.000, 2.000.000. Bellanova riscatto a 700.000 euro. Allora, lo capiamo o non lo capiamo? Che per fare un mercato, prendendo giocatori validi e importanti per questa squadra, si possono anche fare mercati complessivi, magari da 10 milioni di euro, e non spenderne 10 per Marin, non spenderne altri e quant'altro. Cioè, Altare poi è stato preso, non so se a 0 o 100.000 euro, quanto abbiano speso per Altare, però penso con quelle cifre lì, purtroppo oggi non c'è Altare nelle pagelle, però questo è quanto. Quindi Grassi 7 più, Grassi benissimo. Ieri veramente Costanza, si prendeva falli, impostava, ne faceva di tutti i colori. Grassi ieri benissimo, Grassi ieri benissimo, veramente. Dalbert, Dalbert 6,5. Allora, Dalbert un 6,5 perché, ve l'ho detto, nel primo tempo per me è stato il peggiore. Tanti, tanti errori, proprio a livello di qualità. Di quantità c'è Dalbert, ma di qualità proprio Dalbert. Proprio 0. Nel secondo tempo è stato uno dei migliori, l'ha spostato più avanti, ha fatto la punta Dalbert in pratica. Mazzari è veramente un futurista, e comunque Mazzari è il nostrissimo futurismo più totale, grande nonno Walter, grande nonno Walter, e dopo ci arriviamo. Dalbert 6,5, una media tra i due voti, secondo tempo uno dei migliori. Nel primo ho visto delle cose un po' così, un po' aberranti, aberranti, mi piace questo termine in questi giorni. Poi, Lico Giannis. Lico Giannis ha dato un 8, ovviamente è ironico. Però 8 perché noi dobbiamo portare avanti questa strenua difesa verso Lico Giannis, e un 8 puramente artistico, un 8 in difesa di quel sombrero di tacco che ha tirato fuori, ok? 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 E quindi a noi ha svoltato la partita, nel percorso, ha svoltato la partita quel sombrero di tacco, ok? Quindi Lico Giannis sotto. Anzi, chi è il voto più alto commesso? Per Eiro. Allora Lico Giannis si diamo 8 al 9. Lico Giannis sotto al 9, ok? Migliore in campo, grande Lico. Marin è 6 al 7. Allora Marin 6 al 7 perché il riferimento al 7 è dato dalla palla che dà per Bellanova, che è dello strappo che ha fatto, che continua a ribadire, Marin è quando ha la possibilità di strappare. A me piace stare questo termine, strappare! Strappare! Quando fa lo strappo, palla al piede, Marin è un giocatore che proprio fa la differenza in modo enorme. Io continuo a pensare che il Cagliari, quando si è in difficoltà, solo pochissimi giocatori, tra cui Marin e Gaston, possano svoltarla perché hanno una tecnica diversa dagli altri. E il riferimento al 6, invece, è il fatto che perde dei palloni perché non è quella la sua posizione. Anche oggi, comunque, io pensavo potesse giocare più avanti, invece continua a giocare più dietro. Poi, per carità, oggi serviva fare quella prestazione dietro, però ripeto, non è Marin il giocatore che può essere funzionale lì. Poi, per carità, ha fatto l'assist e lì ci fosse stato un altro, magari quell'assist non avrebbe fatto, chiaramente, però a livello proprio di equilibri servirebbe un Marin molto più avanzato e uno al posto di De Iola che randella molto di più. Mi verrebbe da dire, a questo punto, che al posto di Marin un Kurfalidis andrebbe quasi meglio. Ma io, ve lo dico, non è che le enfatizzo la cosa perché Kurfalidis è giovane, perché il capitano della primavera e quant'altro, perché Kurfalidis ha più interdizione di Marin e mi sembra che sia anche più cattivo di Marin, proprio nei contrasti, nelle entrate e quant'altro, ci mette anche più grinta. Quindi Marin continua ad essere per me un dubbio veramente enorme, 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 non saprò mai come sfatarlo. Comunque, andiamo avanti. Per Eero, 8,5. Gastone, allora, guardate, io vi dico una cosa. Questo voto, poi chiaramente i gol incidono nel voto, magari anche basso per voi e quant'altro, ma non voglio fomentare più del dovuto. Ma allora, Gastone, 8,5, ha fatto una partita, soprattutto dal 25esimo del primo tempo in poi, in continuo crescendo, ma al di là dei gol, teneva palla, lottava, si abbassava a prenderla, smistava. Cioè, Gastone ha procurato il rosso. Ieri Gastone ha fatto un qualcosa di incredibile, cioè a livello di cattiveria. E Mazzari l'ha detto bene, l'ha detto bene, adesso non mi ricordo le parole precise, veramente. Però ha detto, tipo, nel post partita, che comunque è stata una cosa di cui sta venendo ripagato, perché su Gastone ha deciso di dargli fiducia, ha deciso di crederci, anche se all'inizio non veniva molto utilizzato, perché non capiva bene qual era la sua posizione, quale fosse la sua posizione. Però, parliamoci chiaro, cioè Gastone ieri ha fatto una partita straordinaria, a predicar da solo in un deserto, a tratti, e teneva palla, faceva salire la squadra. Però non era un tenere palla a livello tipo di un Paoletti o di un Cerri come gioco, era un tenere palla proprio anche tecnico, cioè un tenere palla diverso, lo smistarla diversamente, una visione diversa. Non è percorso, non è percorso, veramente. Walter, nonno, grazie nonno, da oggi in poi sarà nonno Walter, perché noi abbiamo bisogno proprio di un nonno che guidi questi giovani ragazzi, grande nonno, bravo nonno. Nonno Walter 9, è lui il top, no, secondo me è lui che ha vinto la partita, è stato lui il uomo, bisogna dare a Cesare qualche di Cesare, ieri, nonostante le assenze, ha creato una resistenza, la resistenza! Ha creato una resistenza, ragazzi, senza precedenti, con ripartenze di qualità. Dalbert favoriva queste ripartenze, anche se poi la metteva più quantità che qualità, perché la qualità non è di Dalbert. Però, comunque, Walter Rone, 9, bravo Walter, bravo Walter. Allora, siamo arrivati in chiusura di questo video e vi metto gli altri parchinari a cui ho dato tutti i 7, quindi Curfaridis 7, Cepitelli 7, no, anzi, Cepitelli 7 più, Baselli 7, Carboni 7, anzi, Cepitelli 7 e mezzo. Allora, Curfaridis benissimo, ha creato occasioni, faceva, correva, Curfaridis è veramente un giocatore incredibile, e sono contento che Mazzari abbia sottolineato le prove di Oberth e Curfaridis quando è entrato. Baselli è entrato molto, molto bene, Carboni e Cepitelli c'è stato poco per vederli, però, comunque, Cepitelli 8, ok? Va bene. Quindi, siamo arrivati in chiusura, vi ringrazio per la visione, spero che questo video di sentenze, di pagelle del giorno dopo vi sia piaciuto, so che dopo le vittorie vi piace sempre sentire un po', sentire ancora la mia voce, fomentarvi anche il giorno dopo. Forza Casteddu, testa a Empoli. Ciao ragazzi!